Ferma! Non muoverti! Cerca di mantenere l'equilibrio! Sei vivo! Perché sei uscita dal covo? Ti avevo avvertito di non farlo! Tu aspetta dentro, non uscire! Per quale motivo quella creatura ti obbedisce? Calmati, ascolta! Che sei tu veramente? Non muoverti! Non avvicinarti a me, mi hai sentito? È molto complicato da spiegare! Non ti avvicinare! Fai attenzione! Mi fidavo di te! Ti ho creduto! E tu mi hai mentito! Mira, il drago è... Il drago non riuscirà a ottenere ciò che vuole! No, ascolta! Lui non vencerà! Mira, no! Mira! No! Lasciami andare! Fidati di me! Ti prego! Fidati di me! No! 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 Mi hai congo! No! 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 Grazie a tutti